Salve a tutti amanti del mistero, in questo video vedremo i 5 video più inquietanti del web, quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con il video. In quinta posizione troviamo uno youtuber che fa video a tema bambole del paranormale. Un giorno decide di fare un video dove mostra la sua collezione di bambole e possiamo notare che una di queste comincia a compiere strani movimenti. Guardiamo la clip. Guardiamo la clip. Dopo aver pubblicato il video, lo youtuber nota i movimenti compiuti dalla bambola e decide di farci un video al riguardo. Adesso vedremo tutti i movimenti compiuti dalla bambola. Grazie a tutti. In quarta posizione troviamo il video di un uomo in un edificio abbandonato. Durante l'esplorazione l'uomo si imbatte in uno strano essere quasi nudo e dagli occhi spiritati. L'uomo prova a toccarlo ed il video all'improvviso si interrompe. In terza posizione ci ritroviamo in un obbitorio. Sulla destra dello schermo c'è un lettino con un cadavere. Ad un certo punto vediamo uscire dal suo corpo quello che può sembrare uno spirito. Ora vi mostro il video. Guardate con attenzione cosa succede. In seconda posizione troviamo uno short movie nel quale una donna si ritrova da sola in casa. Mentre sta per andare a letto nel buio del corridoio si intravede una strana figura. Messesi a letto iniziano ad accadere cose ancora più strane fino al punto che... In prima posizione troviamo la più abberrante delle scene. Una cosa che non ci saremmo mai aspettati. Un attacco zombie metropolitana. Nel video vediamo il cannibale mentre intento sbranare la sua vittima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Suggeritemi commenti su quali altri stelle e quali altre assurde creature volete che dare. Vi chiedo di lasciare like al video, di condividerlo e di iscrivervi al canale. Quindi... Aaaaah... Grazie per la visione!